La festa proseguiva, la gente beveva, Marta mangiava, ero davvero molto soddisfatta e orgogliosa. Poi è stato il momento di Archie. Prima di tutto grazie per essere venuti. Grazie a te, amore! Spero che vi stiate divertendo. Ora vorrei presentarvi un mio speciale e carissimo amico, Archie! Ehi, buonasera, come va? Lieto di vedervi così numerosi. Il mio benvenuto al party di Riccanza World qui a Capri! Questo spettacolo di magia, veramente fenomenale. Ho qui tre pezzi di corda, uno è più lungo degli altri. Me lo tieni? Grazie. Amo le cose lunghe. Farid, non offenderti, a te do quello corto. Grazie. È stato davvero in gamba, ha catturato l'attenzione di tutti. Ti chiedo di soffiarci su, Elena. Grazie mille, cara, un soffio davvero magico. Ora li tiro un po' su per pareggiare le lunghezze. Mentre Archie proseguiva con i suoi trucchi magici, io mi sforzavo a scoprire come il diavolo riuscisse a fare quelle cose. Sono stata attenta, ma non l'ho capito. Al volo! Grazie mille! È stato l'attrazione della serata. Ha affascinato tutti con i suoi trucchi. Bene. Ora ti do questa pallina. Tieni la bella stretta nel pugno. E adesso aprilo. Non mordono, tranquille! È davvero un grande intrattenitore. È stato abilissimo coinvolgere il pubblico. Penso che abbia fatto una grande esibizione. Sono volate qua. Sembrate un po' confuse. Allora, adesso passo a te tutte le palline. Tieni le belle strette. Va bene. Elena, un passo in là, per favore. Guardami negli occhi. Ora voglio che pensi a tutto quello che hai mangiato oggi. Sei sicuro? Sì. Concentrati bene, per favore. Mi ha dato in mano quelle palline di gomma piuma. Allora, ci hai pensato? Sì, ho pensato. Pronta? 3, 2, 1. Apri la mano. Oh, santo cielo! Ma che cosa ti sei mangiata? A morire da ridere. Forse non tutti amano quel genere di cose, ma per me è stato divertente. Evan, amore, era uno scherzo, ok? Io amo solo te, era uno scherzo! Archi è particolare e simpaticissimo, ma con quel trucco per me ha un po' esagerato. Insomma, era divertente, ma non tiri fuori un pene a un party reale.